Ciao a tutti ragazzi, sono Jumfyman e siamo qui, tornati in un nuovo video attraverso il tablet però questa volta siamo su Cat Mario si, ragazzi, su Cat Mario, il gioco che fa incavolare più di tutti ma che... che cacchio? allora, non ci sto capendo niente guarda, iniziamo vediamo un po' come è lì, allora ci stanno sti cosi che è successo? riproviamoci ieri mi fa incavolare troppo niente tanto c'è mia sorella che è diventata famosa saluta ciao no, vabbè, ma guardate guardate che infami come stai riprendendo? attraverso me, Bitsan no! ma avete visto pure voi che è successo? no, vabbè, regà sto gioco fa incavolare troppo vabbè, qua c'è il coso vabbè, aspetta, saliamo qui sopra vai, no vai, niente ma non esce sembra fatta pasta oddio, l'ho schifato in una maniera assurda allora sicuramente ci sarà qualcosa qua ho paura di troll ma no manco un cerfonte devo iniziare pure tutto da capo tanto scrivetemi pure se volete anche giochi come troll fakes mamma mia come l'ho schifato ragazzi mi fa strano che non c'è strano no, vabbè queste cose mi stanno sul cavolo non me ne frega niente delle pubblicità vai vai mamma mia come l'ho schifato quello no no guarda di non fame sentite chiariamoci fin da adesso alla calmi calmo, mantenere la calma perché se non mi calmo mi viene il cardiopalma allora senti già già sono nervoso che c'è l'estate che fa troppo caldo su di ti ammazzi ti ammazzi vai no no forse ho capito come fare solo che non c'è un checkpoint mamma mia che rabbia allora chiariamoci un attimo ora ora ammazzo a te al gatto che ti ritrovi ok vai sì allora qua c'è il cup mamma mia ci vuoi provare a te Angelica? ok lei lei non ci vuole provare mia sorella non hai salutato il mondo del tubo ragazzi vabbè che devo venire a vedere scusa eh niente salutate il mondo del tubo ciao tubo ma sì no mamma fulcina guarda hai visto quanto è stato Ridge? allora chiariamoci subito ok no no stavo per incavolarmi eh perché l'ha spaccato? vai mamma mia come l'ho schivata e poi muoio muoio non c'è niente da fare niente l'ha spaccato l'ha spaccato e niente mi prende dai sì madonna 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 yoga un bel respiro raggiungiamo il nirvana c'è la prossima puntata la faccio a un miliardo di like mamma mia vai sali ah niente niente mi sono pure dimenticato non ci arrivavo da un'eternità mi sono dimenticato salta scemo scematto salta calmiamoci ragazzi calmiamoci vi prego calmiamoci vi prego sti cacchi destracciato basta un cuccolo va a quel paese pesce infame di cacca madonna ok 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 vai non ce l'ho fatta volevo ritornare indietro ok ok porta bene ok ok niente non porta più bene ok ditemi i metodi per scacciare la fortuna così il prossimo episodio ok niente 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 io vorrei sapere a chi che cosa gli è venuto in mente al creatore di questo gioco quando ha deciso di crearlo che diceva si è svegliato la mattina ha fatto mamma mi sono sognato cat mario e ora lo riproduco che dite che dite che dite che calmo 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 federico se no spacchi il tablet calmo federico se no spacchi il tablet facciamo ultimi due tentativi e poi ci salutiamo vai ultimo tentativo gioco schifoso vai 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 no dai riproviamoci è diventato una dipendenza vai ok 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 non so checkpoint io c'è il checkpoint che faccio mamma mia sei il checkpoint ha preso il checkpoint ha preso raga va andiamo avanti finchè non moriamo va bene bene ragazzi per il video di oggi su cat mario è tutto lasciate un bel like iscrivetevi commentate condividete lasciate un bel like naturalmente se l'ho già detto non se ne frega niente noi ci rivediamo in un prossimo video un saluto da ma già hm sui man andiamo ecco